Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche in apertura. Una notizia di cronaca importante. Il cadavere di una donna in stato di decomposizione è stato trovato nel pomeriggio in un casolare tra Iesi e Monte Carotto in aperta campagna. Secondo le prime risultanze potrebbe trattarsi di Andrea Rabciuc, la ragazza scomparsa, il 12 marzo del 2022 proprio in quella stessa zona. Il ritrovamento è avvenuto proprio vicino al casolare dove era stata con gli amici quella sera. In base agli indumenti trovati accanto ai resti, i carabinieri ritengono si tratti proprio della giovane di origine romena che aveva fatto perdere le sue tracce. Sul posto anche il magistrato che coordina le indagini e il medico legale a cui sarà demandato il compito di chiarire le cause del decesso. Come detto la scomparsa è avvenuta due anni fa. Appunto di Andrea Rabciuc non si avevano notizie da quel 12 marzo quando la ragazza si era allontanata a piedi all'alba da un casolare nelle campagne di moglie dove era parcheggiata una rulotte dove aveva passato la serata insieme alla fidanzato Simone Gresti e due amici. Prima di incamminarsi aveva litigato con il fidanzato al quale aveva lasciato anche il suo cellulare. Il giorno dopo la madre non riuscendo a contattare la figlia al telefono aveva denunciato la scomparsa. Vi terremo ovviamente aggiornati. Al via Pesaro, capitale della cultura 2024, 8000 persone alla vitrifrigo Arena. La presenza anche del capo dello Stato Sergio Mattarella. Ci racconta tutto Laura Meda. Vediamo. Una vera e propria standing ovation quella che ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'entrata nella vitifrigo Arena di Pesaro. 8000 persone tra cui 2000 studenti hanno partecipato alla cerimonia che ha dato il via all'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura. Oltre al Presidente Mattarella, presenti alla cerimonia il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli, tanti sindaci e amministratori locali e ovviamente il padrone di casa Matteo Ricci. È un viatico incredibile questo. Avere più di 8000 persone in questo palasport ci sono venute grazie a Mattarella, oltre che all'orgoglio locale e alla voglia di partecipare. Sì, è una giornata storica per noi, per le Marche. È una giornata che ha rappresentato il grande orgoglio della provincia italiana, che vuole competere a livello nazionale e internazionale e ha rappresentato anche la volontà di raccontare la natura della cultura e quindi la sfida per salvare il pianeta e al tempo stesso la volontà di rilanciare la cultura della pace, come ha detto egregiamente il Presidente della Repubblica. Un lavoro di anni che si porta ad oggi e un lavoro importante davanti perché saranno centinaia, se non migliaia contandoli tutti gli eventi e le iniziative da fare funzionare. A Pesaro ogni 50 comuni coinvolti e sarà un anno lungo, intenso, ma lavoriamo per goderselo al meglio e soprattutto per cercare di fare la migliore figura possibile come capitale italiana della cultura, che è una bella responsabilità. Tanti, ha spiegato Mattarella nel suo intervento, ringraziando la città di Pesaro, visiteranno questo territorio e scopriranno le sue bellezze. È la conseguenza di una cultura circolare che non sopporta restrizioni, una cultura che è passaporto delle nostre libertà. La città di Pesaro esulta e ringrazia il Presidente, ma i sogni non finiscono qui. Abbiamo deciso con il Comune di Urbino di lanciare la candidatura a Pesaro-Urbino per la capitale europea del 2033. Insomma, meglio andrà quest'anno come capitale italiana e più forti saremo per quell'avventura. Intanto si vive il presente con i mille eventi che attendono i 50 comuni della provincia di Pesaro, piccoli comuni che diventeranno tutti capitale almeno per una settimana, anche a loro l'augurio del Presidente Mattarella. Fare cultura significa creare opera dell'ingegno. Il fatto che si continua a sognare, ha scritto l'antropologo Roger Basset, conferma che la creazione resta da completare. Per Pesaro inizia quindi oggi un sogno operoso, un sogno sorretto dall'impegno di realizzazioni concrete. Buon anno da capitale italiana della cultura per il 2024. Tantissimi ragazzi presenti anche delle scuole sono i ragazzi di Pesaro 2024, sentiamoli. Giornata importante, che significato ha per voi? No, è molto importante perché comunque Mattarella è una figura molto importante appunto per noi italiani ed è un onore veramente avercelo nel nostro territorio. Alla fine le marche di solito sono un po', non sono diciamo tanto considerate, quindi è una cosa importante che vicino a noi è considerata una città importante. Ecco, se qualcuno di voi potesse oggi fare una domanda a Mattarella, magari sulla vostra città, su cosa serve o la vostra regione, cosa vorreste chiedergli? Cosa significa per lui dirigere una nazione del genere e comunque anche l'importanza per lui, cosa significa la cultura in generale per il signor Mattarella e non so, questo penso. Com'è venire in una città così piccola forse perché alla fine lui sta, cioè comunque no, Pesaro è piccola e quindi probabilmente chiederei questo a Mattarella. E quanto conta per voi la cultura? Oggi ne riparleremo di sicuro tanto? Sicuramente molto perché comunque anche la nostra scuola, anche il nostro indirizzo, cioè basato sulla cultura, inizieremo il nostro corso universitario e la maggior parte di noi ha indirizzi diciamo inerenti alla cultura, quindi sarà sicuramente una cosa molto formativa. Tanto, e poi noi siamo anche nel sottore turistico, quindi è una cosa che comunque incide ed è importantissima. È molto importante perché comunque la cultura è una cosa che col tempo si sta sempre più perdendo, cioè è finita ormai, non c'è più la cultura di avere cultura appunto e quindi è una cosa molto importante anche e soprattutto per i giovani perché la cultura è solo le fondamenta della nostra società, le fondamenta del mondo e quindi per sperare in un mondo migliore, sembra una frase banale, ma sperare in un mondo migliore bisogna comunque avere una buona cultura. Ed ora la cronaca e torniamo a parlare della giornata nera di ieri con due incidenti mortali sul lavoro nelle Marche Aiesi presso lo stabilimento CNH Simone Filipponi, 54 anni di Castelbellino, contitolare della BF Montaggi, padre di due figli, ha perso la vita dopo essere precipitato da un'altezza di 7 metri e è morto sul colpo ed è stata disposta la ricognizione cadaverica. Sempre ieri un fabbro è morto avvolto dalle fiamme nel suo laboratorio a Rappagnano in provincia di Fermo, Paolo Mariani, 62 anni, stava lavorando nel seminterrato della sua abitazione quando è scoppiato l'incendio. Parlano i sindacati con un comunicato unitario, il silenzio per partecipare al dolore delle famiglie e delle vittime degli ultimi due tragici infortuni sul lavoro nelle Marche ma subito dopo l'azione per dire che la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono le priorità. Così i sindacati CGL, CISL e Wille in un comunicato unitario certamente il giorno dopo le ennesime tragedie sul lavoro serve soltanto unirsi al dolore di quanti hanno perso i propri cari ma è anche il tempo delle riflessioni. Il principio è che il lavoro è un diritto, uno strumento per realizzare i propri sogni e partecipare alla crescita dell'intera società. Ci stiamo abituando a quello che è invece un bollettino di guerra, morti e feriti sul lavoro non possono essere considerati una normalità, non ci deve essere una assuefazione. Nel 2023 ci sono stati nelle Marche 15.714 infortuni e 21 morti, scrivono CGL, CISL e Wille. Ed ora l'allarme disturbi alimentari che sono in aumento dopo il covid del 40% il punto con l'appuntamento corpi invisibili al teatro delle Muse di Ancona. Vediamo. Ogni atto legato al cibo esprime molto di più oltre il mero nutrimento. A tavola si parla, si condivide, si cresce nello scambio. Per chi soffre di disturbi alimentari, il cibo diventa il mezzo attraverso il quale manifestare il proprio disagio interiore. L'anoressia diventa un modo per esercitare il controllo su se stessi. Emerge dal confronto organizzato al ridotto del teatro delle Muse di Ancona dal titolo Corpi invisibili, disturbi alimentari delle relazioni contemporanee. I disturbi alimentari hanno origine multifattoriale, concorrono gli stili di attaccamento, l'influenza del gruppo dei pari, l'impronta genetica, il contesto culturale e lo stile alimentare della famiglia. Riconoscere il disagio, dicono le relatrici, può consentire una prognosi migliore nella cura. I due dati più importanti sono l'aumento del 40%, soprattutto una difficoltà di accesso alle cure. Questo è un problema perché non solo stanno aumentando, ma stanno aumentando anche in una fascia di età più bassa. Quindi se prima erano disturbi che colpivano una fascia di età da 12 anni a 25, ora abbiamo anche ragazzini di 8-9 anni che presentano dei primi campanelli d'allarme. Quali sono i segnali da non sottovalutare che possono essere colti a tavola? Allora, è molto importante fare attenzione a dei rituali. A volte si evita proprio il momento del pasto. Diciamo che possiamo fare attenzione a tantissimi segnali. Quando si parla di corpi invisibili, si parla di disturbi alimentari, anoressia, ma anche bulimia. Sono aspetti diversi dello stesso problema. La bulimia nervosa presenta delle caratteristiche ben precise, che ha a che fare non solo con abbuffate, ma con condotte di compenso. Quindi possiamo assistere a pazienti anche molto giovani che usano lassativi, diuretici, hanno condotte di vomito, a volte anche pluriquotidiane. Quale tipo di attività si svolge all'interno di questa realtà unica a livello regionale, appunto, Villa Oasi? Allora, sì, è l'unica struttura all'interno della Regione Marche che si occupa della cura, appunto, di disturbi al comportamento alimentare, quindi ospita pazienti che necessitano di un intervento di cure ad alta intensità. All'interno di Villa Oasi si ha l'opportunità, proprio per tutto il nucleo familiare, di essere preso in carico. Perché si guarisce tutti insieme? Perché si guarisce tutti insieme, assolutamente sì. Per quanto riguarda la viabilità, invece, andiamo alle confine tra Marche e Umbria, perché è stata riaperta al traffico la galleria lungo la statale 77 della Val di Chienti, direttrice Foligno Civita Nova Marche tra gli svincoli di Colfiorito e Serravalle di Chienti, chiusa lo scorso 24 dicembre a causa dei danni provocati dall'incendio di un veicolo proprio dentro la galleria. Per consentire il completamento dei lavori di ripristino degli impianti danneggiati, il transito è provvisoriamente consentito su una corsia per ogni senso di marcia fino al termine degli interventi. L'incendio era stato originato da un'autovettura che transitava in direzione Foligno. I danni causati dalle fiamme agli impianti tecnologici e di sicurezza avevano reso necessaria la chiusura di entrambe le canne del tunnel. Dopo le prime verifiche tecniche, ANAS ha poi avviato gli interventi di ripristino, consentendo la riapertura di una corsia per ogni senso di marcia. La conclusione dei lavori e la rimozione delle cantiere è prevista entro due mesi. Ed ora la sanità al collasso, così dicono i sindacati di medici e infermieri che si sono dati appuntamento ad Ancona. Sanità al collasso in Italia e le marche non fanno eccezione tra lunghe liste di attesa, mancanza di posti letto e continui tagli alle risorse. Il punto tra medici e infermieri ad Ancona è iniziata una stagione di proteste e scioperi alla quale aderiscono tutti gli operatori coinvolti in sanità. Il Covid ha messo in luce tutte le fragilità del sistema sanitario nazionale. Infermieri che hanno 30 anni di anzianità di servizio che lasciano la professione perché non è più compatibile con una vita regolare e dignitosa. Non solo quindi un problema di stipendio ma un problema proprio di condizioni di lavoro. Dall'altra parte questo si riverbera anche nelle prospettive dei giovani e soprattutto questi carichi di lavoro lo vediamo con i pronto soccorsi affollati, lo vediamo con le tensioni che si creano con gli utenti, con le aggressioni. Il sistema sanitario nazionale oggi è in una forte crisi di identità ed è agonizzante e occorre quanto mai in questo momento un'azione comune tra medici, infermieri e operatori della sanità perché la politica possa comprendere che soltanto con una collaborazione reale, fattiva possiamo risolvere i problemi. E le marche? Non vediamo la progettazione di una rete clinica e non vediamo dove possiamo investire le risorse in un confronto tra politica e sanitari per utilizzare al meglio le nostre professionalità e il nostro tempo. Sicuramente ricorriamo sempre di più ad orario aggiuntivo, sicuramente ricorriamo sempre di più ad un affaticamento che porta la gente ad abbandonare il servizio sanitario nazionale. È evidente che la gente rinuncia alle cure, rinuncia ad andare in pronto soccorso e pensa anche ad andarsi a fare dopo un trauma una radiografia in privato perché sa che entra in un vortice che non è più sicuro e non è più una risposta certa come era in passato. Sicuramente quello che investiamo rispetto a quello che è il PIL è sicuramente in riduzione, questa è una certezza. Sulla sanità non si investe, sulla sanità si cerca di ridurre ormai da troppi anni. Ma parliamo anche dei volti positivi della sanità e quindi con il centro unico regionale di diagnosi prenatale di secondo livello a Loreto presentato un nuovo ecografo, piattaforma top di gamma nell'ambito delle indagini ostetrico-ginecologiche. Vediamo. Questo tipo di apparecchiatura ha la capacità di entrare in profondità e quindi di migliorare notevolmente l'immagine. Capite che questo ci permette di studiare il dettaglio del bambino e le eventuali malformazioni in soggetti che altrimenti avrebbero difficoltà ad avere una risposta adeguata. Si chiama Voluson Expert 22 e il nuovo ecografo del centro unico regionale di diagnosi prenatale di secondo livello dell'ospedale di Loreto, prima struttura pubblica in Italia ad essersi dotato di questa attrezzatura. L'esclusiva tecnologia Lyric Architecture TM fornisce immagini di qualità eccezionale e maggiore capacità di penetrazione. Prevede infatti l'implementazione delle più recenti tecnologie disponibili in ambito di calcolo computazionale e di rielaborazione grafica, permettendo così di ottenere immagini di altissimo livello diagnostico. Consente di visualizzare molto bene endocardio e strutture encefaliche del feto. Vi sono inoltre appositi accorgimenti per studiare in modo più agevole anche quei casi di pazienti con elevati indici di massa corporea. Il centro unico dal 2017 ad oggi ha erogato circa 60.000 prestazioni con un incremento costante dell'attività. Nell'ultimo anno ha seguito 1700 pazienti, di cui 350 da fuori regione. È uno dei primi ecografi a livello nazionale in assoluto per garantire un'appropriatezza del trattamento delle maternità in questo centro specializzato di Loreto e anche in questo diciamo che c'è un'attenzione alla sensibilità particolare del servizio sanitario regionale e della politica per questa particolare condizione femminile allorquando il feto possa apparire e avere delle anomalie. A Loreto c'è una bellissima esperienza che nasce dalla sanità pubblica, che riesce ad essere attrattiva ed è credo un punto di orgoglio importante per tutto il sistema sanitario regionale. La prima nelle Marche è all'avanguardia a livello nazionale e dimostra che le attenzioni della regione per questa nostra struttura vanno al di là naturalmente della nostra città. È un messaggio forte che parte oggi da questa struttura ospedaliera, da questo reparto che significa vicinanza al sistema sanitario regionale. E questo era il nostro ultimo servizio, io mi fermo qui, ovviamente le notizie sono sempre aggiornate, vi do l'appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito, arrivederci.